Ciao, io sono Giannita, sono un programmatore informatico, ho 34 anni e faccio parte del Meetup Grilli dello Stretto, ormai da svariati anni, ma da circa un anno mi occupo di attività sul territorio, in particolar modo. Faccio parte del gruppo di lavoro di tutela degli animali che si occupa appunto della tutela degli animali in diversi ambiti, tra cui per esempio anche di informativo. Non so se voi sapete che cos'è un Meetup. Un Meetup è un luogo in cui le persone si incontrano e condivano le proprie idee, danno delle soluzioni ai problemi della città, fanno delle proposte, delle alternative. È un bellissimo luogo di incontro per cui invito tutti a esserci e a partecipare. In particolar modo, proprio imminente, ci sarà una festa 25.000, che è una festa per celebrare 10 anni di attività di grilli dello Stretto sul territorio, per cui ci saranno tante persone, da tutti i listi, ci saranno dei nostri portavoce, tra cui Luigi Di Maio, Alessio Villarosa, Valentina Troverana, Giancarlo Cancelleri. Insomma, sarà una bella festa e un'opportunità per tutti di incontrarsi e dire un po' quello che si vence e festeggiare tutti insieme questo bell'evento. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!